Da un lato vi è la volontà di trasmettere il valore artigiano appassionando ad un mestiere le giovani generazioni, dall'altro rispondere all'esigenza concreta di mano d'opera che caratterizza il mercato del lavoro bellunese. Questa è la duplice finalità che ha spinto Casa Artigiani Belluno, Rete, Imprese e Dolomiti, ad investire maggiormente nell'ambito della formazione supportando attraverso l'istituzione di borse di studio l'avvicinamento dei giovani agli istituti professionali. Nell'anno scolastico 2022-2023 abbiamo promosso la creazione di un bando interno con 10.000 euro a disposizione per dei giovani che volessero intraprendere gli studi nel settore della formazione professionale. È per incentivare proprio la scelta. Siamo convinti che proprio tramite la scuola professionale, qualunque essa sia, fondamentalmente si possano creare delle nuove figure, delle nuove competenze spendibili nel giro di poco tempo. Attrarre i giovani verso il mondo dell'artigianato con la fine di tramandare loro saperi e mestieri che altrimenti rischiano di scomparire, puntando al contempo sempre più anche all'innovazione, alla sostenibilità. Questo l'intento dell'associazione che trova collocazione a Belluno presso il centro consorsi. È proprio in discussione adesso nel consiglio di amministrazione dell'associazione Casa Artigiani Belluno l'utilizzo di tutte le nostre risorse per poter favorire la creazione di un ulteriore bando che quest'anno potrà vedere anche la partecipazione di diverse scuole del settore professionale. Un modo per avvicinare e coltivare possibili nuovi talenti da immettere nel mercato in un momento quanto mai sfidante nel quale le aziende necessitano di nuovi professionisti. Rileviamo questa difficoltà da parte delle aziende di poter trovare della mano d'opera. Se qualche anno fa era solamente mano d'opera specializzata, purtroppo oggi si trova anche difficoltà nel trovare mano d'opera generica. L'artigianato rappresenta un passaggio importante di competenze, autonomia, flessibilità e quindi quello che oggigiorno il nostro modo di vivere richiede.